La dodicesima edizione delle Fonti Awards, che si è tenuta in una delle location di maggior fascino e prestigio a Milano, ha consacrato le eccellenze del mondo imprenditoriale, legale e professionale, che si sono distinte per la rilevanza delle operazioni seguite, l'alta specializzazione e gli amiziosi progetti messi in campo, senza dimenticare l'innovazione e la leadership. La premiazione è stata condotta dagli ancor di Le Fonti TV, l'emittente punto di riferimento nel panorama dell'informazione finanziaria economica e giuridica, che vanta una community fidelizzata di oltre 10 milioni di persone in oltre 125 paesi. E continuiamo con il premio Eccellenza dell'Anno Innovazione e Leadership Servizi di Finanza Straordinaria. Il premio va a Investimenti in Finanza Merchant. Ecco, e anche qui c'è un ritorno. Vediamo un po' quali parole ci sono nella motivazione. Vediamo allora che per confermarsi per il secondo anno consecutivo come eccellenza nella consulenza di operazioni di finanza ordinaria e straordinaria, per fornire il supporto alla crescita e la gestione strategica delle PMI, per sapersi distinguere, per affidabilità e competenze per la pluriennale esperienza del direttore generale Giuseppe Ursi. E che è qui con noi ovviamente, che adesso giustamente ritira il premio. Complimenti, complimenti ancora. Siamo in compagnia di Giuseppe Ursi, direttore generale di Investimenti e Finanza Merchant. Buonasera. Dottor Ursi, anche quest'anno vi confermate come realtà d'eccellenza e leader sul mercato nei servizi di finanza straordinaria. Ecco, come commenta questo riconoscimento? Intanto è dovere e anche piacere ringraziare le fonti che, come le ha detto, per il secondo anno ha voluto premiarci come eccellenza dell'anno per l'innovazione, la leadership e per i servizi di finanza straordinaria, che è un po' quello che noi facciamo. Un altrettanto e doveroso ringraziamento a tutti i colleghi che con impegno, dedizione, costanza ci hanno consentito di sempre di più consolidare la nostra posizione di mercato, che nel corso del 2022 ci ha visto ulteriormente crescere, aumentare il nostro fatturato, conseguire miglioramenti sui margini operativi e conseguire anche un buon autofinanziamento. E noi continuiamo a conseguire risultati nell'esclusivo interesse dei nostri clienti, proponendo, come lei ben ha detto, servizi innovativi di finanza straordinaria, senza però creare problemi o sostituzioni con quelle che sono le normali fonti finanziarie tradizionali. In sintesi cerchiamo sempre di più di combinare la finanza di credito ordinaria con quella straordinaria. Ecco, la vostra realtà proprio supporta le imprese nella gestione e nella consulenza per operazione di investimenti e di attività di finanza straordinaria, proprio come stava dicendo. Ecco, alla luce dei recenti avvenimenti anche di politica internazionale, insomma, quali sono stati gli impatti sulle scelte aziendali delle piccole e medie imprese italiane? Sono state quasi devastanti, direi, perché dopo la pandemia che ha visto tutte le aziende in grosse difficoltà, in affanno per cercare di rimettersi in corsa, è accaduto così in maniera improvvisa, repentina, la guerra e tutte le conseguenze che ha portato. Oltre agli effetti di speculativi che grossi gruppi, i detentori di materie prime, hanno in maniera fredda portato sul mercato, che ha peggiorato notevolmente quelli che erano già margini di contribuzione bassi e ridotti e ha portato ad un incremento delle materie prime, non solo inflazionistiche, ma a materie prime in generale e che a loro volta hanno portato a crisi all'interno delle aziende. Noi cerchiamo in qualche modo, stiamo cercando di sopperire alle problematiche che le aziende hanno che probabilmente non saranno nelle condizioni di rimborsare il debito conseguito, avuto durante la pandemia, anche grazie alle garanzie dello Stato. E quindi cerchiamo di proporre soluzioni alternative per rimetterle un attimo in piedi. Ovviamente parliamo di piccole e medie imprese che non hanno all'interno una loro funzione finanziaria, una loro direzione finanziaria e quindi sono ancora di più delle grandi in grosso affanno. Su quali settori di riferimento e quali attività vi state concentrando o state puntando? Noi non abbiamo preclusioni di sorta sui settori. Per noi quello che conta è la capacità delle imprese di conseguire obiettivi. Ovviamente cerchiamo di valorizzare i territori, le vocazioni che hanno e quindi di sostenerle nei processi o di rimodulazione del debito, di ristrutturazione o anche di investimento. I settori storici cui noi guardiamo sono quelli dell'alimentare, del turismo, dell'energia, della moda, dei trasporti, ma ogni altra azienda che può conseguire un vantaggio competitivo e che poi riesca anche a difenderlo. Bene, grazie e congratulazioni ancora. Grazie e grazie a voi. Buonasera.